Cominciamo dalla fine di Campobasso Pineto. I circa 130 tifosi rosso-blu giunti a Disernia prendono di mira pesantemente il tecnico Novelli e ne chiedono le dimissioni. Oggetto delle contestazioni risulterà essere anche in prota. L'allenatore rosso-blu ci confiderà di non dimettersi e di aver visto una squadra viva, ma rimane lo stesso Novelli comunque in forte discussione. Il Pineto strappa tre punti vitali con un gol di Emili, ma ad approcciare meglio era stato il Campobasso con il baby Martiniello al suo debutto dal primo minuto e che al quarto trova tutto l'istinto di Mazzocchetti che para. Vitelli si fa poi anticipare in calcio d'angolo. Sono i rosso-blu a menare le danze. Al diciottesimo la percussione di Vitelli crea lo spazio giusto per un tiro di prima intenzione ancora di Martiniello. Prodigiosa la risposta del portiere abruzzese. Pineto completamente imbambolato e insidioso per la prima volta al ventiduesimo quando Maloku crossa da destra trovando una smanacciata di Palumbo. Ganci verrà fermato in fuorigioco. I giocatori ospiti non se ne avvedono, continueranno poi con un gol inutile realizzato da Esposito. La squadra di Amaolo prende coraggio. Al venticinquesimo il tiro di Ganci è ribattuto da De Mattei. Siteramani invocano un calcio di rigore per un presunto tocco di braccio del difensore rosso-blu. Al ventotesimo è indemoniato Martiniello il suo tiro scoccato da limite preso in aria da Mazzocchetti. Il campo basso crea ma non riesce a passare cosa che meriterebbe pure alla mezz'ora tiro cross di Germano. La pala di un soffio a lato con Improta che viene pescato in offside. Al trentaduesimo da un angolo da parte di Fazio c'è un doppio tentativo di Torvic sul secondo il portiere Para ma al difensore di Novelli è mancata decisamente la cattiveria sotto rete. Il campo basso crea una mole di occasioni da gol ma trova spesso un preparatissimo Mazzocchetti al trentaseiesimo Germano in becca Martiniello murato per l'ennesima volta dal portiere Teramano. Quello che meno ti aspetti succede al quarantunesimo da angolo abruzzese il pallone rimbalza più volte in aria prima che si presenti per il classe 97 mili il rimpallo giusto da depositare in rete di destro. Nulla ha potuto Palumbo. Pineto in vantaggio nemmeno troppo giustamente ma tant'è dopo una frazione di campo basso sicuramente anche Sprecone. La ripresa non dirà troppo a livello di cronaca e finirà con il legittimare la vittoria della squadra di Daniele Amaolo pericolosa. Già dopo qualche secondo Torvic perde ingenuamente il pallone a beneficio di Palumbo che se ne va defilato. Tira ma troppo debolmente rimedia in calcio d'angolo la difesa rosso-blu. Al settimo esce Vitelli ed entra Iaboni che debutta con la maglia del campo basso. Dopo qualche minuto ad uscire è un impalpabile grazioso. Entrerà Tini. Si apre una fase di grande nervosismo sia in campo che sugli spalti laddove la contestazione dei tifosi verso Novelli si fa sempre più vehemente. Al quarto d'ora buono il cross di Fazio per il tuffo di testa di Germano che è davvero troppo leggero. Neutralizza ancora Mazzocchetti. Il Pineto amministra ma dimostra anche di poterla chiudere. Venienza sciupata incredibilmente al ventiquattresimo dal neoentrato cacciatore trovato da Palumbo. Novelli si gioca anche la carta a Fioretti. Il luogo di Martiniello e il rosso-blu chiudono con quattro attaccanti ma non riescono ad assediare con Razio Cigno e il Pineto. Al quarantaduesimo sulla torre di Torvic Iaboni fa il gol della domenica, anzi del mercoledì, ma tutto viene stoppato per fuorigioco dell'attaccante rosso-blu. Il campo basso perde la terza gara consecutiva e il Pineto cerca di far partire la rimonta in classifica. Vergognosa l'assenza del presidente Perrucci che pare abbia confidato ad alcuni tifosi di essersi pentito di aver dato carta bianca a Minadeo e Cappellacci lo scorso anno. Pentimento amaro ma anche inutile. Ad oggi la distruzione del giocattolo campo basso si sta verificando proprio per mano di Perrucci e Minadeo. Inoltre i giocatori rosso-blu hanno chiesto di avere, prima della partita di domenica a San Mauro di Romagna, un incontro chiarificatore con la stessa società rosso-blu.